Dalle esposizioni di arte contemporanea fino alle raffinate gallerie Dubai, un tripudio di arte vibrante, ed è lì che va in scena la rassegna più variegata a livello internazionale, la Art Dubai. Negli ultimi anni l'evento è cresciuto in modo sorprendente, è un momento dell'anno in cui la comunità internazionale tutta si sposta a Dubai per far parte di questo progetto straordinario. Tra gli eventi di cui è pieno il calendario, questo è netto risalto con i suoi 500 artisti, i suoi 42 paesi che qui convergono e nel quale si condividono diverse prospettive e idee. Per me è molto importante essere presente qui, questa infatti è la prima volta che esco dall'Europa con un progetto tutto mio come questo. È davvero stupendo che una galleria scommetta su un singolo artista, in questo modo hai davvero la possibilità di mostrare il tuo lavoro a pieno. Qui il punto di vista è completamente diverso rispetto all'Europa o all'America. Le persone qui sono molto più interessate alla scena globale artistica e non si soffermano solo sulla regione del Medio Oriente. Dubai ha un posto importante nella piattaforma internazionale, credo che ora questo paese abbia la struttura giusta per passare al prossimo livello. Ci spostiamo dal Quartz, il grande quartiere delle arti, dove si estende via l'Arsecale, il centro artistico più emozionante della città. Una volta quest'area era tra le più bistrattate del quartiere, mentre oggi è sinonimo di casa, per artisti locali di talento. Questo posto per noi è sinonimo di famiglia, sia che si realizzino mostre mondiali di alto livello, o che si ospitino programmi, iniziative o eventi temporanei. Tutto questo ha portato Dubai a un livello completamente diverso rispetto a prima. Dal Serkal passiamo al centro artistico Jamil, uno spazio creativo che ora è visto come una sorta di svolta per la comunità artistica del luogo. Si tratta del primo spazio non commerciale, non governativo, che si pone come obiettivo l'aspetto civile di una comunità. Dubai ospita un intero ecosistema artistico, sia che si tratti di residenze per artisti o studi d'arte, o che si richiedano commissioni vere e proprie, il centro Jamil, dove ci troviamo oggi, è uno spazio collettivo. Si tratta di una porta, un passaggio dove le Stellov si incontrano e una delle città più cosmopolite del mondo, Dubai sta imponendosi come centro culturale per la comunità artistica globale.